Più di 60 anni di storia dell'automobile, una storia movimentata ed in movimento. Da azienda familiare a una delle più grandi organizzazioni automobilistiche del mondo. La storia della Porsche Holding è la storia di una famiglia austriaca. I figli del geniale ingegnere Ferdinand Porsche. La figlia Louise e il figlio Ferri. Alla fine degli anni 40, i fratelli assumono gradualmente il controllo sullo sviluppo dell'azienda familiare. Mentre Ferri Porsche fonda a Stoccard la famosa casa di produzione di vetture Porsche, Louise e suo marito Anton Piech costruiscono l'azienda di distribuzione automobilistica Porsche Holding, inizialmente come importatore del marchio Volkswagen. Dopo la prematura scomparsa del marito, Louise realizzò un piccolo pezzo di miracolo economico, alla guida a un'azienda di distribuzione con sempre più concessionarie. Furono presto chiare le esigenze che la nuova mobilità portava con sé. Servizio eccellente ai clienti. Ricambi attraverso un proprio centro di distribuzione centralizzato. Assicurazioni, leasing e finanziamenti pensati su misura dai predecessori dell'attuale Porsche Bank. Gli anni 90, la Porsche Holding cresce in una situazione di cambiamenti politici e costruisce la propria rete di vendita e assistenza in Europa orientale. Viene fondata la Porsche Informatica, l'azienda leader nello sviluppo di sistemi gestionali per la vendita e l'assistenza delle concessionarie ed è oggi uno dei driver di innovazione delle soluzioni di mobilità digitale. 2005, Porsche Holding, tra le prime aziende di distribuzione, inaugura propri punti vendita in Cina. 2011, si chiude un ciclo della storia dell'automobile. La Porsche Holding entra a far parte del gruppo Volkswagen ed allora assume un ruolo fondamentale per la vendita e l'assistenza di vetture all'interno del gruppo. Ne derivano nuove possibilità di crescita per la Porsche Holding. Con la gestione di grandi gruppi di concessionarie, in Germania, Spagna, Italia, Svezia, Francia e Portogallo. Oltre a nuovi mercati in Sud America, Asia Sudorientale e Giappone, la Porsche Holding raggiunge una nuova dimensione globale. Con 873.900 vetture vendute all'anno, tra nuove usate, 21,5 miliardi di euro di fatturato, con 32.900 collaboratori in 529 concessionarie. Quello che è iniziato con un'azienda familiare è oggi una delle più grandi realtà di distribuzione automobilistica, al cui centro la nostra attività non è mai cambiata. Rispondiamo alle esigenze di mobilità di nostri clienti, oggi ed in futuro. Offriamo servizi di mobilità di guida connessa della sfida della mobilità elettrica. Sostenuta dal fashion dell'automobile, gestita da una squadra di collaboratori orgogliosi ed estremamente competenti, la Porsche Holding è pronta per proseguire il percorso per diventare miglior partner commerciale per la mobilità.